Bene ragazzi, eccoci a un nuovo episodio di Tales of Arise. Mi sono andata a informare un po'. Praticamente di Pashin ce ne sono 44. 40 ti dovrebbero dare un'esca? Forse, ho capito bene. Comunque, ho visto che due esca che mi mancano, li dovrebbero dare all'arena. Quindi andiamo all'arena. Come andiamo a mangiare. Oh, una ste frittella. Quindi oggetti non ci interessa perché andiamo a combattere. Minerali manco. TV forse. Facciamo questo? Io l'arena non l'ho fatta per niente in questo periodo. L'ho fatta solo per una missione l'ho fatta. E basta. L'ho messo proprio il piede. Allora. Battaglia singolo. Pisaro. Allora. Ci dò sta balena. Celestiale. Esca. Canna dell'Alleanza. Ah, questo deve essere a livello 60. Inferno. Inferno crossing. Enough. Glacial pyre. Who's next? Sadistic descent. Beast assault. ah vedi ci ha sbloccato qualcosa e quindi erano da fare erano proprio da fare e questo lo devo fare per forza ma che ti danno a una divento che abbasso ok è solo fatta dovrebbe essere 40 i'll do my best inferno crossing new chance nice try who's next glacial pyre who's next glacial pyre inferno crossing inferno crossing ah inferno crossing sadistic descent beast assault havoc thrust inferno crossing new chance now going in glacial pyre no foto normal come on inferno crossing glacial pyre denied glacial pyre beast assault hello 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 C'è quanto tempo ci ho messo? Dai, dammi l'altro Oh, buono Oh, vedi un po' Vedi cosa mi ero zompata Perfetto Allora Il problema non ce la faccio, sicuro Non è inutile, manco che ci provo, sta a 60 Questo non ho capito dove fare Stanno infitti solo dopo averlo atterrato Ma io non riesco ad atterrarlo a quello, quindi Allora, lo faccio così per tutti quanti Facciamo la battaglia di gruppo prima Principante intermedio 60 Supremo 99 Herb Che deve fare nessuna rivincita Per 60 minuti, vuol dire 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 Grazie a tutti 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 No 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 Casino No 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 si sono fastidiosi da ammazzare dai vai fai il culo c'è c'est pas Ok, ce l'ho fatta a farlo. 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 Ok. Questo l'ho fatto? Perché non mi mette il tempo? Ah, perché si possono rifare questi, ho capito. Ah, per avere oggetti. In un buon modo. Ok, allora. Fammi utilizzare gli oggetti che abbiamo fatto. Allora. Difesa. Ok. 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 Adesso mi faccio con Alphen. Adesso mi faccio con Alphen. Ah, adesso l'ho fatto con questo. Ok. Ah, quindi devi mettere delle arti che ti atterrano a un nemico. non so. Insomma, manco che arti che ci ho messo. Ah, questo è di Lucia. usiamo quelle meno usate così magari le facciamo salire ok ecco non serve una mazza ok fammi togliere sta arte e quello non lo seguivo di vista fermo ok 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 Grazie a tutti! Allora, vieni, devo mettere delle arti più tranquille. Se aveva una da uno. La cosa che alza? Oh, shock e plasma, ce la metto alla fine. Prima la alzo. Oh. 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 Oh Mi ha fatto finire al limite? Non lo so Oh No, ce la farò sbattere quello... Un bezzo proprio... Dai Ok, quando fai quello ti togli un po' di vita, quindi è controproducente Dai, scatta Vediamo se ce l'ho fatta come Demby Sì, ce l'ho fatta Ok Ma sono casini qua Ti capisci niente Oh, quindi fa arti Però così ci metto un sacco di tempo per caricare L'esplosione 4 Mocca a te quando prende Resurrezione No Recupero Vabbè aspetta, forse mi serve... Questi qua metterlo Resurrezione Resurrezione Recupero Recupero Cerchio Ok Quindi se faccio l'altro è così Qua che ci abbiamo Ci volevo qualcosa che alza Ecco Ma conviene lanciare le bombe, chissà. Sous-titrage ST' 501 Fortissima sta mossa, la fai allontano. Perchè capisce qualcuno. Ok. Vediamo con quest'altro se riesco a farlo. E' buono giocare abbastanza, almeno ti costringono ad usare altre... Altria... Altria... Annihilation... Cyan Instant... Lunar Blast... Annihilation... Cyan Instant... Lunar Blast... Annihilation! Cyan instant! Annihilation! This is it! Where are you going? Eat dirt! Annihilation! Cyan instant! Annihilation! Where are you going? Annihilation! Cyan instant! Let's give it a whirl! Let's give it a whirl! How's this? Let's give it a whirl! This is it! Glacier! There! Go! Annihilation! Annihilation! Lunar blast! Spearsweep! Spearsweep! Cyan instant! Lunar blast! Spearsweep! That'll bring you down! Ampheus impact! Grimed and ready! Glacier! Annihilation! Take it! Annihilation! Cyan instant! Annihilation! Cyan instant! Lunar blast! Annihilation! Lunar blast! Lunar blast! That'll bring you down! Annihilation! Cyan instant! Lunar blast! Annihilation! Spearsweep! Up with Glacier! Spearsweep! Annihilation! Annihilation! Cyan instant! Eat dirt! Spearsweep! I never fit! I'm ready! Annihilation! Cyan instant! I'm ready! I'm ready! I can't do it! D менее, I can't do it! It's not good! Do it! Come on! Come on! Cyan instant! Cyan instant! Lunar blast! Annihilation! Take it! One more! Spearsweep! Annihilation Cyan Instance Sighting, and again Annihilation Cyan Instance Lunar Blast Sighting, and again Annihilation I never fit They've got me surrounded Annihilation Cyan Instance Lunar Blast Annihilation Cyan Instance Spearsweep Let the Markman handle this I'm ready Praticamente lo fanno con Il boss Grazie Riuscite a farlo con tutti Tranne con Quello Allora 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 Look at me One more time I don't need to 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 Poi ci mette troppo tempo per caricare la arte che mini Poi ci mette troppo tempo per caricare la storia Ma qui è proprio gnomba Ah, hai usato l'arte, che questo è iota Ma sì, usiamo tutte quelle da quattro Ah, hai usato l'arte, che questo è iota Oh, hai usato l'arte 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 Ah, quindi l'arte si annulla se fai cosa veloce Fa un culo Come dovresti fare a fare le arti se questo ci mette tre anni Se togliermi queste palle le dà le palle Oh, hai usato l'arte 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 per recuperare non ci faccio molto con queste non ci faccio molto non ci faccio 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 questo c'è da ore fa prima di tutto vedo che cosa c'ho non ci faccio non ci faccio quello che abbasano non li mettere in fondo Alla prossima. 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 I'll crush you! Lightning reflexes! Tenebrous claw! I'm just getting start! Surfing knuckle! Burn! Inferno punch! Calent score! Okay. Oggetti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, mi sa che mi manca solo il Lord. Allora... E abbiamo... Quelle di cura le mettiamo qua. Allora... La barriera che fa? Ma questi sono tutti agliati, so. No, facciamo così... Regenerazione... Facciamo cura. La barriera... E facciamo... No, aspetta... Resurrezione... Allora... Arriviamo... Che cosa? Ok... Allora... Ok... Vediamo... Vediamo... Gli attacchi... Non di lontano... Forse da vicino... E... E... Andiamo... E... 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 Ma la trappola non mi sembra sopporto intelligente. Sessiona, facciamo questo. Oh, mamma mia. Mi piace il Lord, oh, fammi gli attacchi. Invece avrò, ovvio. Sono proprio dei bei attacchi. Sessiona, facciamo questo. No. 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 malinetto bastardo qua ok o mi sono curato posso pure farlo raging lunastore braccia di darknec raging lunastore raging lunastate in a bind soaring black tonic spear tonic spear eagle rage sanguine blossom sanguine blossom raging lunastore rai 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 mel rai rai nato rai rai rel No, ci ho messo un po' troppo Qui il zaffiro non me l'ha dato Mi ha dato il teschio del demon Che cos'è il teschio del demon? Vorrei pescare qua, mi so Finale If only we could've flown with the wind to get here faster Oh, you know, don't you think we're running a little low on food? Allora, ma dovrei avere l'esca per l'osturione Oh, eccolo Che l'ho vinto facendo l'arena con Kisara Non mi ricordo se è il primo livello o il secondo Ok, e adesso ci siamo Allora, così, ne prendo due, me ne mancano Dovrei essere arrivato a 40 Ok, questo è 40 Ah, quadrato Hmm? Dai, vieni da mamma Vai, preso Ok E finalmente l'abbiamo preso I wasn't sure if I'd actually reel it in But That was intense It looked like Yeah, I kept thinking your rod was It's a whopper of an armored sturgeon It wriggled so The fish was all But you held your own in Heavyweight Uh Uh, no I just mean you Law Ok Non ci ho sbloccato nessuna abilità Comunque Allora Io andrei Mi sa che è l'ultimo che è rimasto Il molo Non vorrei aver dimenticato qualcuno al molo Perché gli altri mi sa che ce li ho tutti Di pesci Ok Mi manca uno qua Merli d'argento Vediamo se ce l'ho Non ce l'ho Ah, quindi Merli d'argento lo ridà dopo che hai conquistato 40 Quindi niente Non me lo do qua Non mi ha frega mai di prenderlo Allora You sure he's not just trying to hide from us? Oh? Oh? Hmm Ok Ci è uscita una nuova missione In cui abbiamo La possibilità di raggiungere Un'isola E in quest'isola c'è un'altra zona dove pescare Quindi andiamo al molo E andiamo in quest'isola Ok, isola deserta Perfetto Ok Di qua ci dovrebbe essere Un gufetto Ok 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 Fammi andare prima a pescare Poi me ne vado di qua Allora Vediamo che pesci stanno qua Sgombro Rombo Cernia Barracuda Allora Sgombro 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 Ok Facciamo prima lo scombro No Devo prendere lo scombro Sgombro 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 L'ho preso Rombo 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 No Questo è un altro Rombo Ok Non so Quale sia Rombo Rombo Sì Dovrebbe essere Tondo Ah sì Questi sono Quelli che sono Orribili Quando saltano Rombo 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 Abbiamo peso Cernia 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 Ok Cernia Quale sarà? Immagino che sennò Quelli che iniziano a essere Quelli grosse Quelli che iniziano a essere Quelli grosse Quelle idee Sembra troppo facile Per essere Oh no Perfetto Ok Mi manca Barracuda 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 Ce l'ho Ah io che pensavo Che fosse a due Certo Allora Il vero Boss È l'ultimo Pesce Che mi è rimasto Nel Nell'oceano Pesce Barracuda borace ok quindi qua abbiamo completati completati abbandonare si finisco di esplorare l'isola qua chi ci sta? no vabbè è lui l'infame vedi un po infatti stai morendo lo stesso ok abbiamo uno che non potremo abbattere sicuramente 59 non è cosa? volevo sapere almeno dove sta varia da... e cosa? ah di qua non ci posso andare vabbè ho fatto stare di là allora però non posso buttarmi stagno non mi confondevo allora ma ci dobbiamo far dare l'amo visto che abbiamo superato i 40 pesci pescati ok 43 quindi a me manca uno in totale ne sono 44 allora adesso dobbiamo andare volo nascosto volo ok allora vediamo sto merly eccolo qua questo è un grande Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La scatrice è forzuta. La scatrice è forzuta. Ok, adesso andiamo da quello stronzo che mi dà la canna. Che me ne devo fare della canna? Non so. Non so. È l'ago, non lo vedo. Tagna. Ah, tronzo, dammi l'altra canna. Tutto qua. No, 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 no. Dove devo andare al mulo? Dove devo andare al mulo? No, no, no. No, 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 no. Vabbè, facilissimo. Il tipo vuoi pure sbagliare, vedi, vedi, quanto è facile. L'altra canna. Vuoi sapere a che serve? Tanto li hai già presi, volendo. Vabbè per cucinare perché fai meno fatica a prendere i pesci. O li vendi, dopo. O li vendi. Ok, who's... Nice try, Law. We all know it's your... Damn, was I that off? Wait, before you... Remember when the three of us fixed pancakes? I remember how weirdly... Wait, don't tell me you wanna re... Oh, no. It's just... I've been thinking of... I used every trick in the book to make the perfect pan... You're wondering why you lo... Pretty sure it's because you... Anyway, I've come up with a recipe. And... All right. I'm... Wait, are... Thanks. Okay, wait here. Thanks for waiting, everyone. I can't wait. The way these spices jump about... They're so sweet. Holy crap! You chose the perfect... The presentation is... They're perfect! Shion, these... Really? I'm... Although, don't we all seem to have different impressions of how they act? You're right. It's like everyone was eating something completely... Here. Let me take a bite of you. It's true. I fine-tuned them to suit each person. You did that for everyone's pancakes? That must have been... It was. But I learned something important. You see. Here, water! What's important as a cook isn't what I want people to... Well said, Shion. I'm... No recipe is complete without love and care. So one might say... You've grown so much as a cook, Shion. I have nothing left to... Oh, thank you, master. What's happening? I'm going to walk if I can. That's right. What's it? What's it? Sì. Oh, thank you. You've got to go. I didn't feel like I didn't see any damage. Oh, thank you. Eh, questo qua, eh. Ripristino PC dopo la battaglia G. Punti cuora. Eh, poco tanto, eh. Solo l'uovo dobbiamo prendere. Allora. Ripristino PV, questo invece quando fa? Ripristino... ah, ok, diverso. Allora, Sashimi e P, Sushi e G, che usa invece? Questo è il tonno, il pagello e il salmone. Io che cucinò? Questo qua che rai? Ah, pesce boss, quindi non mi serve manco il pesce boss, posso pure venderlo. Game. Esperienza, chiaramente l'esperienza è G, quindi mi interessa il tonno. tonno, il salmone e il pagello. Gli altri li posso tutti vendere. Grazie a tutti. 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 Ehheheh. Provate a dirlo. Sì Infatti La cura di sé finché sarà possibile Oh, mi sono mancata una, vedi? Ma del Lord? Oh, non c'è due cromele, non c'è manco Ok Quindi, ricapitolando Ma se volete aumentare l'esperienza Per i sushi vi serve il tonno, il pagello e il salmone Interessante Ah ok, posso farlo lo stesso Mh-mh are you saying I well I used to hate but now I don't think all magic saying it out loud I think you have long I mean he was nope he's got nothing to do with it if long you're crazy are you saying you rather he I'd say the fact you can get so worked up about things now is another sounds like someone wants me to put on a little magic all right all right I'm not a little Bene ragazzi concludo qui questo video dove abbiamo finalmente catturato tutti i pesciolini che c'erano in questo posto del cavolo. Abbiamo sbloccato la canna di finale. Penso che ci sarà un'ultima canna nell'arena se finisci la battaglia singola di Kisara a livello quindi ce ne vorrà molto. Per adesso bisogna semplicemente portarli in alto perché sono a 55 e dobbiamo arrivare almeno a 60 e poi si può affrontare il boss e adesso si può fare le varie missioni che rimangono da fare prima di concludere la storia. Quindi per adesso chiudo qui. Se vi piaciuto il video mettete un like e se volete vedere come va avanti la storia iscrivetevi al canale. Ciao ciao!